Va bene, va bene, ci facciamo un circuitino al mare e vi andare! Ma non col drone, con l'ultraleggero Chiave on, quantità carburante c'è, i binetti aperti ci sono, radio intercom off, troublite Ok, anche quello, siamo a posto, ok Manetta, motore a caldo appena, magneti, on, freno parcheggio inserito, zona interna l'elica libera, via da l'elica! C'è la mia tendina! La nuovissima manica a vento, non è color corretta, è così, è rossissima! La nuovissima manica a vento, è così, è rossissima! La nuovissima manica a vento, non è la mia tendina! La nuovissima manica a vento, è rossissima! La nuovissima manica a vento, è rossissima! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.